Salve ragazzi cari amici del web, eccoci qua in questa entusiasmante puntata di Te la do io la Malesia. Ci troviamo in questo momento a Kuala Lumpur e il nostro giro prosegue. Vi ho fatto vedere la città di notte e in questo momento invece vi sto facendo vedere una panoramica molto caratteristica e tradizionale dei posti più simbolo di tutta la Malesia. Quella che vedete con questa entusiasmante inquadratura sono le cosiddette torri Petronas. Le torri Petronas sono state a lungo le torri più alte al mondo. Ecco, vi darò una panoramica un po' più sciolta. Ecco, sono già stato qua di giorno, sono stato qui di giorno ma vista la calura, vista anche la condizione atmosferica molto particolare, ho ritenuto opportuno ritornare qui in serata perché solamente con la sera lo spettacolo di maestosità e luce rende giustizia a questo posto. Ecco, qui abbiamo uno sfondo veramente eccezionale. Ecco, questo è un luogo caratteristico. Io lassù ci sono già stato per cui non ci tornerò un'altra volta anche perché non so se è possibile effettuare la visita serale. Indicativamente il biglietto per poter andare a fare la visita guidata alle torri Petronas costa sui 20 Euro. Questa mi sembra, mi pare la cifra di aver pagato, è una cifra che mi sembra alquanto esagerata però effettivamente lo spettacolo ne vale la pena e comunque sia abbastanza allineata anche con i prezzi di altre parti del mondo. Eccoci qua, questa bellissima panoramica. Devo dire che queste torri sono altissime. Adesso non so quanto si riesca a capire dall'immagine della videocamera ma sono molto più grandi di quelli che sembrano. Eccoci qua, chiudiamo qui questa entusiasmante puntata serale. Ok, ciao amici, ci vediamo alla prossima. Ciao!